Il gabbiano Jonathan Livingstone di Richard Buck parte sesta. Nessuno aveva infranto questa legge mai una volta in diecimila anni. Ora la legge comandava di restare e Jonathan di andare. E lui era già lontano più di un miglio solitario sul mare. Se induggiavano ancora si sarebbe trovato ad affrontare da solo l'ostilità dello stormo. Beh non siamo tenuti ad osservare la legge se non facciamo parte dello stormo disse Fletcher piuttosto impacciato e poi se c'è una zuffa saremmo più di aiuto là. E così quel mattino arrivarono in volo da occidente. Erano in otto e volavano in compatta formazione a doppio rombo con le ali che quasi si sfioravano. Sorvolarono la spiaggia del consiglio a 135 miglia orarie. Jonathan in testa, Fletcher agile sciolto alla sua destra, Henry Calvin forzando un po' di più alla sinistra. Poi l'intera formazione compì come un solo uccello una virata in volo orizzontale poi rovescio poi di nuovo orizzontale veloci come il vento. Quasi quella formazione fosse stata un'enorme cesoia tagliò netto le stride e il gracchiare di cui la spiaggia al solito ferveva brulicante e otto mila pupille di gabbiano guardarono sbarrate. Uno dopo l'altro gli otto uccelli si impennarono fulminei e ognuno descrisse una gran volta al termine della quale venne a posarsi lentamente sulla sabbia. Poi come se quella fosse cosa di ogni giorno il gabbiano Jonathan si mise a fare i suoi rilievi sulla manovra appena effettuata. In primo luogo disse con disappunto siete stati un tentino lenti nella fase di raduno. Fu come se un fulmine si fosse abbattuto nel bel mezzo dello stormo. Ma sono dei reietti quegli uccelli e hanno usato ritornare ma questo è inaudito inammissibile. Lo sbigottimento era tale che valse a sovvertire il pronostico di Fletcher. Non ci fu battaglia solo tanta confusione. Beh d'accordo sì sì sono reietti dicevano alcuni dei gabbiani più giovani ma accidenti dove avranno imparato a volare in quel modo. Ci volle quasi un'ora perché l'ordine dato dall'anziano si diffondesse di becco in becco per tutto lo stormo. La consegna era ignorarli. Il gabbiano che rivolge la parola a un reietto è reietto anche lui. Il gabbiano che posa lo sguardo su un reietto infrange la legge dello stormo. Sicché da quel momento tutti quanti stornarono gli occhi da Jonathan e si voltarono dall'altra parte. Ma lui non parve neanche farci caso. Seguito a tenere lezione in perterrito proprio lì sulla spiaggia del consiglio e si mostrava con i suoi allievi più severo che mai più esigente perché dessero il meglio di sé. Gabbiano Martin gridò a un certo punto. E tu quello lo chiami volo rallentato? Se sai fare di meglio faccelo vedere avanti. Allora Martin William un gabbiano piccoletto e tranquillo stimolato da quell'inatteso cicchetto ce la mise proprio tutta e superò se stesso in quell'esercizio. Con appena una bava di brezza riuscì torcendo le penne a sollevarsi senza un battito di ali dalla sabbia alle nubi e a ridiscenderne aliando. Del pari il gabbiano Charlorand volò nel vento della grande montagna a un'altezza di 7000 metri. Ne tornò paonazzo dal freddo mezzo intontito ma felice e deciso a volare più alto l'indomani. Il gabbiano Fletcher che era il più appassionato di tutti per le acrobazie effettuò un tonno verticale in 16 distinti movimenti e il giorno seguente ci aggiunse come tocco finale una ruota tripla. Le sue penne sfavillavano ardite nei raggi del sole e più di un paio d'occhi si levarono furtivi dalla spiaggia ad ammirarlo. E sempre Jonathan era là al fianco dei suoi discepoli a guidarli a dar loro degli esempi prodigo di stregliate e di consigli. Volava insieme a loro nella notte attraverso le nebbie e attraverso le tempeste per il puro piacere di volare mentre lo stormo miserabilmente infreddoliva a terra. Terminate le lezioni di volo gli allievi si ricreavano sulla sabbia e con l'andar del tempo presero ad ascoltare Jonathan con maggiore attenzione. Aveva sì certe sue folli idee che loro non riuscivano a capire però ne aveva anche tante altre che loro comprendevano e trovavano sensate. A poco a poco la sera intorno al cerchio dei discepoli venne a formarsi un secondo cerchio un cerchio di gabbiani che ascoltavano curiosi per ore di fila nel buio gli uni fingendo di ignorare gli altri per essere ignorati a loro volta. Prima dell'alba chiotti se la svigliavano. Era trascorso un mese dal ritorno quando il primo gabbiano dello stormo si decise a varcare il confine. Chiese che gli insegnassero a volare. Con quell'atto gabbian Terence Lowell si poneva al di fuori della legge e riceveva il marchio di reglietto ma ora Jonathan aveva otto discepoli. La notte successiva a farsi avanti fu Gabbian Kirk Maynard barcollando e strascicando un'ala sulla sabbia si gettò ai piedi di Jonathan. Aiutami gli disse molto calmo con quel tono che è dei moribondi desidero volare più di qualunque altra cosa al mondo. Vieni con noi allora gli disse Jonathan sollevati dal suolo insieme a me e cominciamo quando ti pare. Non capisci la mia ala non riesco a muoverla. Maynard tu sei libero di essere te stesso questa è la libertà che hai adesso e qui e nulla ti può essere di ostacolo. Questa è la legge del grande gabbiano la legge che è. Intenti dire che posso volare? Io dico che tu sei libero. Semplicemente allora Kirk Maynard allargò le ali così senza il minimo sforzo e si levò nel cielo oscuro della notte. lo stormo fu destato di soprassalto dalle sue grida. Gridava a squarciagola da un'altezza di più di cento metri sovolare e guardate sovolare e alle var del sole erano circa mille gli uccelli che si accalcavano intorno alla cerchia degli allievi per guardare Kirk Maynard curiosi e non gli importava di essere notati. Ascoltavano il gabbiano Jonathan e cercavano tutti di capirlo. Lui parlava di cose molto semplici. Diceva che è giusto che un gabbiano voli essendo nato per la libertà e che è suo dovere lasciar perdere e scavalcare tutto ciò che intralcia, che si oppone alla sua libertà. Vuoi superstizioni, vuoi antichi abitudini, vuoi qualsiasi altra forma di schiavitù. Sorse una voce dalla moltitudine. Scavalcare anche la legge dello stormo? L'unica vera legge è quella che conduce alla libertà, disse Jonathan. Altra legge non c'è. E tu pensi che noi saremmo buoni di volare uguale a te? Si levò un'altra voce. Tu sei fuori del comune e hai doti divine. Mica sei un uccello compagno a noi. E Fletcher allora? E Lowell? O se no prendi Charloran? O guarda giù di lì? Anche loro sono fuori del comune e hanno doti divine secondo te? L'unica differenza, credi a me, è che loro hanno compreso ciò che veramente sono e ora tendono a metterlo in pratica. Hanno cominciato ad adeguarsi a se stessi. Gli allievi di Fletcher, tranne Fletcher, si innervosirono. Messi a disagio non si erano resi conto che era quello che stavano facendo. Vanno dicendo quelli dello stormo, disse Fletcher a Jonathan un giorno dopo le prove di velocità, che se tu non sei il figlio del grande gabbiano in persona, allora sei un par di mila anni in anticipo sul tuo tempo. Jonathan sospirò. Si corre sempre il rischio di venire fraintesi, pensò. O ti danno del demonio o ti chiamano Dio. E tu Fletcher che ne pensi? Ti pare che siamo in anticipo sul nostro tempo? Un lungo silenzio. Beh, direi che questo modo di volare può benissimo essere cosa dei tempi nostri, bastava che qualcuno si desse la briga di scoprirlo. Voglio dire, non è cosa che ha a che fare con il tempo. In anticipo saremo sul costume, sulle usanze, semmai. Più evoluti degli altri gabbiani saremo. È qualcosa, disse Jonathan, virando per planare. Molto meglio che trovarci in anticipo sul nostro tempo. E qui termina la parte numero sei.